Attenzione! Attenzione! In questo programma vengono utilizzate parolacce e volgarità in generale. Se siete particolarmente sensibili a certi argomenti, vi consigliamo di non ascoltarlo. Vi ricordiamo che ogni riferimento a cose o a persone reali è puramente casuale ed è tutto in tono scherzoso e non diffamante. Ah, non lo so, se ti vuoi fermare, vedi tu. Signora! ...assegnare una conversazione appunto per leggersela in secondo momento evitando di essere soffatti, magari dalle chat molto attive. È una cosa che ritenete utile? Sì, no, se ce lo volete dire naturalmente. Sì, sì. ...fila di stemme che immediatamente sono scattate le ipotesi qualcuno... Sì, sì. ...fila di stemme che è stato scattato. Ma vaffinculo... la madama ma tu sei una testa di cazzo senza pari ma vai a fare un cazzo e sono passato per andare la madama 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 cazzo freni ma va a fanculo cazzo muoviti dai dai su cosa freni una volta esclare in un simpatico in un sito in un minuto in un minuto ... ... ... ... ... W... ... ... che ... ... ok bene, grazie Boris e poi gli auguri a zia Carmela sentite qua perchè... dai co*****o è necessario usare tre parole permesso grazie e sto c*****o scherzà e scusi no ma bisogna essere dei ristronzi però eh c*****o ma mettila prima dio semplicare due sottotitoli maci in fe proprio Grazie a tutti.